Un decalogo di regole per cittadini e amministratori pubblici per attuare una mobilità urbana consapevole e un'app per gestire attraverso la telefonia mobile il trasporto pubblico. Queste le proposte parte del progetto, illustrato questa mattina a Palazzo della Cultura, nel corso di Viaggiando a Impatto Zero, avviato dalle giovani sentinelle della legalità dell'Istituto Comprensivo Fontana Rossa e nato dalla collaborazione con la Fondazione Caponnetto, che dal 2003 ha tra i suoi obiettivi il contrasto alla mafia e la promozione della legalità. I lavori sono stati aperti dall'assessore alla cultura Barbara Mirabella e da quello all'informatizzazione Alessandro Porto che hanno portato i saluti dell'amministrazione e assicurato piena collaborazione nelle attività degli studenti. Questa è la vera politica partecipata. Se ne parla tanto ma poi in effetti se ne fa poco. Quindi oggi sono qui con carta e penna per prendere gli appunti delle richieste che stanno facendo i ragazzi che hanno svolto un ottimo lavoro attraverso la scuola, ma soprattutto anche con i cittadini, con dei test, con delle domande, con delle fotografie e hanno creato questo decalogo dove ogni ragazzo, ogni alunno della scuola Fontana Rossa che oggi con cui stiamo condividendo questo progetto potrà prenderne spunto e, come hanno anticipato nell'incontro, fare politica attiva e passiva. Quindi rendere attivi e quindi realizzate le richieste e soprattutto attuarle attraverso le procedure come è giusto fare. Quando si parla di combattere i rifiuti significa anche quando vediamo una carta a terra raccoglierla e buttarla nel cestino. Questa è la politica attiva di cui parlano i ragazzi. Quindi complimenti alla preside, al direttore didattico che stanno portando avanti questo progetto insieme all'AMT e chiaramente questa amministrazione che è attenta e molto sensibile a questi temi oggi siamo qui ad ascoltare e a prendere appunti. Il progetto punta l'attenzione verso una mobilità consapevole che prediliga il trasporto pubblico per la tutela dell'ambiente e lo snellimento del traffico urbano, ma non solo. Gli studenti hanno proposto anche una raccolta di plastica in cambio di ticket per il trasporto urbano coniugando così il corretto deposito e riciclo dei rifiuti plastici alla possibilità per i meno ambienti di avere trasporti, se non gratuiti, almeno scontati. Hanno preso parte all'iniziativa il dirigente dell'azienda metropolitana Trasporti Isidoro Vitale, il responsabile nazionale scuola della Fondazione Caponnetto Domenico Bilotta, la dirigente scolastica Concetta Patrizia Tumminia, Cristiana Petrina, referente regionale della Fondazione Caponnetto e la referente del progetto Giovanna Micale. È un modo di vivere quotidiano perché i ragazzi hanno attenzionato l'autobus come luogo comune a tutti, res pubblica e quindi da vivere in maniera legale e la legalità nasce dalle piccole cose, quindi dalla convivenza all'interno di uno spazio che debba essere un momento conviviale, un momento dove i ragazzi possono, e non solo i ragazzi, possono interagire in maniera educata, in maniera legale e non è solo questo. I ragazzi hanno anche approfondito delle tematiche importanti legate all'inquinamento e hanno dato questo titolo l'autobus ad impatto zero perché vogliono rendere l'autobus anche, tra virgolette, ecologico, che possa evitare l'inquinamento nella nostra città. E hanno quindi fatto delle proposte attive perché ragazzi cittadini attivi di ciò che vorrebbero, uno scambio di biglietti al presidente dell'AMP, Giacomo Bellavia, con dei tappi ed un'app, un'app che ci possa far diventare, abbracciare una city, far diventare la città city smart, quindi veloce, pratica, anche per i turisti perché Catania ha bisogno di turismo.